che serva poi non soltanto a Universite ma a tutte le associazioni che servano, speriamo mai, ma per dire sia a disposizione di tutte le associazioni che fanno parte di questa struttura e anche di chi dovrebbe essere comunque bisogno. Vi abbiamo riunito questa sera, vi ringraziamo perché è l'anniversario del primo anno della morte. Vi ringrazio. Vuole dire a chi è intitolato? Sì, a Daniela Marinoni, è stata nostra docente per tanti anni di matematica, scusate se mi commuovo ma è sempre stato così quando parlo di me. È stata per tanti anni nostra docente di matematica, il suo crucio era di avere poco spazio, cioè noi ne davamo, ma lei avrebbe fatto dalle due del pomeriggio alle sei di sera solo matematica. Voi capite che le aule sono quelle che sono, il sindaco lo ringraziamo però non sono dille e quindi volevamo pure limitare la situazione, ma era di una passione, di una voglia di stare, di dare le sue conoscenze. Io credo, guardate, io sono una grande economia e commercio, quindi voglio dire, ho dovuto masticare le matematiche, poi ai miei tempi si faceva analisi 1, analisi 2, statistica 1, statistica 2 finanziaria, insomma un sacco di matematiche. Era difficile trovare dei docenti che la facessero amare, lei era una che faceva andare la matematica, proprio la rendeva, cosa ti voglio dire, un giochetto, anche se si parlava di strutture matematiche piuttosto importanti e questo vuol dire che era una valida docente, oltre che pur preparata culturalmente nella sua disciplina, davvero una valida docente.